Oggi siamo qui a presentare questo bellissimo itinerario da Raffaello Al Genga di Montefeltro Adventure, Bike and Walk. Bellissimo, una cosa molto interessante perché si snoda su un territorio incontaminato, su un territorio che ha dato i Natali anche all'agricoltura biologica italiana, è qui che nasce, a Montebello, che puntiamo ad avere un turismo, come ho detto in altre occasioni, un turismo slow. Cioè le cose bisogna farle veloci indubbiamente, però sento sempre più parlare di velocità, accelerazione, velocità, accelerazione, però arriva il momento in cui il turista deve arrivare e sentirsi a suo agio, andando piano, calmo, vedendo tutte le sfumature del territorio con i vari colori, con i vari profumi e andando a degustare quelle che sono le nostre eccellenze agroalimentari, che sono tantissime e che devono portare poi il turista a far innamorare di quello che è la nostra cultura e il nostro viverci in queste zone. Noi come associazione Monte Feltro Adventure siamo impegnati a diversi anni nella valorizzazione del territorio del Monte Feltro e abbiamo avuto la possibilità attraverso l'appoggio degli enti locali, quindi dei comuni e della provincia, di promuovere questo tour che è nato nel 2020 per l'anniversario dei 500 anni di Raffaello, ma unisce un po' tutto il territorio dell'entroterra della provincia con i comuni di Urbino, Petreano, Isola del Piano e Vallefoglia, sotto il punto di vista sia artistico e storico con riferimenti a Raffaello Sanzio e a Gerole Mogenga, ma anche ricollegandosi a tutte le eccellenze del territorio quindi a quelle no gastronomiche e naturalistiche. Quindi noi attraverso questa proposta di turismo lento, fatto in e-bike, aperto a tutti quanti gli utenti sulle due ruote speriamo di dare un nuovo impulso al cicloturismo nella provincia che può rappresentare per il nostro territorio anche a livello di attività un modo di fare rete, di mettere insieme chi fa ricettività, chi organizza come le agenzie di viaggi pacchetti turistici. La presentazione di una segnaletica turistica che comprende i comuni di Urbino, di Vallefoglia, di Petreano, Isola del Piano, della provincia è affascinante perché fa conoscere un territorio incontaminato pieno di storia, di paesaggio e di gastronomia ma soprattutto di un ambiente e un territorio veramente straordinario come era centinaia di anni fa e quindi vale la pena segnalarlo non solo nei telefonini come oggi va di moda ma anche attraverso questa bellissima segnaletica che vedete alle mie spalle e che indica un percorso di 40-50 km. Questo percorso in bici, questo percorso ciclabile da Urbino a tutto il territorio da Vallefoglia, Petriano, Isola del Piano, Monte Calvo, cioè questi territori con questo modo di viverlo in bicicletta per chi è professionista magari della bicicletta, chi va in mountain bike ma anche chi è con la pedalata assistita, con le bici di oggi possono veramente tranquillamente fare questo percorso e raccontare veramente cosa c'è in questo territorio. Il nostro territorio si addice benissimo a questi tour in e-bike e possiamo permetterci così di pubblicizzarlo e attirare nei nostri comuni diversi amatori che diversamente non potrebbero venire. Il percorso è un percorso medio quindi che passa tra i nostri comuni e permette al turista di vivere il verde con la tranquillità che può amare con le bike.